nuova stagione di about a book felicissimi di aprirla con michela murgia benvenuta grazie di avermi voluta qui allora faccio da madrina questa stagione tutto nuovo studio nuovo abbiamo questa grande lavagna scritta malissimo titolo morgana di michela murgia e chiara tagliaferri oggi si parla di una raccolta di storie di ragazze che la vostra mamma non approverebbe anche se qualche mamma sì perché la mia è a quanto capitò anche la tua secondo me le approverebbe ma va bene sono ragazze un po cattive ragazze un po cattive dieci ritratti noi oggi parleremo di questo libro about a book che è il libro di michela e poi ecco con la nuova stagione oltre allo studio parleremo anche del suo libro about your book chiederemo a ogni scrittore ospite di repubblica youtube di raccontarci il suo libro se non della vita perché ne avranno mille il libro che per il nostro scrittore ha un significato particolare con tanto di citazione allora michela nell'era dei meme io sono partita dalla citazione del tuo morgana se sei un uomo forte sei un professionista se sei una donna forte sei una stronza e diciamolo grace johnson l'ha detto michela e chiara l'hanno ripreso condividete e se sì perché succede tutto questo succede perché eh siamo dentro allo stereotipo del femminile locile del femminile rassicurante dolce comprensivo affettuoso eh ancillare non voglio usare la parola servile ma è questo il eh compiacente sei bella gentile carina sorridi che sei più sei più carina perché non devi sorridere perché le donne non hanno diritto di arrabbiarsi non hanno eh non hanno diritto di essere di cattivo umore perché se un uomo è di cattivo umore ha una ragione per essere di cattivo umore se una donna è di cattivo umore ehm ha il ciclo mestruale oppure non ha una vita sessuale appagante oppure ha un brutto carattere e nessuno la sposerà e questo è stato detto per molto tempo eh oggi per fortuna non è più così assoluto ma la generazione che si è risentito dire è ancora viva e le generazioni successive sono state cresciute da quella generazione lì quindi tutte ci siamo sentite dire sorridi che sei più carina quando sorridi è meglio no ci sentiamo tutti più rassicurati beh temete lì i sorrisi delle donne perché in natura quando un animale ti mostra i denti non ti sta eh facendo amicizia ti sta minacciando e sono donne che non hanno obbedito molto al comando di sorridere a comando queste dieci morgane dieci ritratti allora ne abbiamo tantissimi eh intanto dicevamo nel lancio su Repubblica da Manopozzi a Grace Jones, Living Westwood, Zaha Did, ehm abbiamo la patinatrice eh Tonya Harding Tonya Harding che è la Morgana preferita di Chiara Tagliaferri noi abbiamo voluto eh idealmente inserirci in questa sequenza mettendo sulla quarta di copertina una nostra foto molto Morganica che che ci ha scattato un'altra donna che e questo è un progetto tutto di donne e la foto è di Chiara Pasqualini e le illustrazioni sono di MP5 quindi è una comunità uno strano gineceo eh che ha dato vita a una linea di pensiero l'idea che si possano anche raccontare le donne difficili per le donne non solo poi quelle difficili per gli uomini ma poi si questo libro sta avendo un'insospettabile reazione positiva eh da parte degli uomini nel senso che eh avevamo immaginato che potesse incarnare molti dei malumori femminili e anche qualche voglia di ribellione maschile soprattutto tra gli uomini che non corrispondono al modello del maschio, bianco, eterosessuale, macio della nostra della nostra società quindi gli omosessuali eh i ragazzi che ancora non hanno fatto il coming out anche però molti uomini cisgender molti uomini eterosessuali che invece dentro quel modello ci stanno ma che evidentemente sentono che è stretto anche per loro e ci dicono avete liberato anche loro Morgana sono anch'io ci dicono quindi per la prima volta le nostre presentazioni ci ritroviamo non più la una sterminata platea di donne come capitava in passato ma anche molti uomini che vengono e ci dicono grazie quindi è una soddisfazione molto forte. Chi è la tua Morgana preferita di questa collezione di ritratti? La mia Morgana preferita è Santa Caterina da Siena in realtà e se la gioca con Marina Abramovic tutte e due hanno la stessa tensione spirituale diciamo sì spirituale quella corretta che però passa per il corpo cioè Caterina e le sue stimmate Caterina e le sue ferite sul costato. Le stimmate scusa ti interrompo per farle vedere si vedono perché il disegno di MP5 fa vedere questi cerchi rossi nelle mani che però passano sugli occhi. Esatto è come se Caterina vedesse attraverso le sue ferite e Marina che è una che ha ferito il suo corpo in modi molto estremi e l'ha fatto ferire anche durante le sue performance e un'altra che ha pensato che le crepe come direbbe Chiara che le ferite sono porte da cui passano delle cose che non posso a volte luce a volte buio non sempre luce però nel caso di Caterina in quel disegno per esempio gli occhi non li vedi cioè sono buchi sanguinanti. Ma vedi attraverso la sofferenza? Per lei la sofferenza è un modo per essere più vicina a Cristo nel senso che durante quegli anni nel 1300 quando Caterina appunto è la mistica di riferimento di due papi e di un'intera società quella italiana che era tutta cattolica e quello che succede è che se soffri unisci le tue sofferenze alla croce di Cristo quindi in realtà sei più di Cristo se hai le ferite sul tuo corpo. Oggi quel tipo di sensibilità religiosa non la condividiamo più del tutto ed è giusto però ricordo per esempio che oggi la consulta dovrà deliberare a proposito del fine vita a proposito del suicidio assistito e noi oggi abbiamo una cultura del dolore sopportabile molto più contemporanea non pensiamo più che uno debba soffrire e accettare il dolore o che il dolore abbia un senso in sé per elevarci spiritualmente però in quel periodo sì quindi lei tra l'altro non le aveva le stimmate, le diceva di vederle, di averle ma le vedeva lei sola. La visionaria diceva anche di aver ricevuto l'anello con rubino. L'anello con rubino ma quello conosco anche molte donne che sostengono di aver ricevuto anelli che in realtà vedono solo loro però devo dire che Caterina l'aveva ricevuta da Gesù quindi se proprio devi sognarla, sognala grande ecco. Il corpo, lei diceva di aver scambiato il suo cuore con quello di Gesù. Sì, questa strana operazione cardiologica tra un espianto tra l'erotico e lo splatter lei ad un certo punto dice sogna che Gesù le sia apparso e le abbia squarciato il petto e si sia squarciato il proprio e abbia invertito i due cuori, il cuore di Caterina in Gesù e il cuore di Cristo dentro Caterina. Non si tratta di una questione affettiva perché nell'anatomia spirituale il cuore non è la sede dei sentimenti, quella sono le viscere, il cuore è la sede della volontà. Quindi la cosa che sta dicendo Caterina è ancora più trasgressiva e detonante. dice io parlo con la volontà di Cristo e Cristo ha la mia volontà in sé, cioè siamo la stessa cosa. In un'epoca in cui le donne si chiedeva solo silenzio e obbedienza. Esatto, non potevi decidere neanche come intrecciarti i capelli e invece Caterina non soltanto dal detto a Cristo ma da lezioni a due papi. Il corpo, hai parlato delle stimate, c'è sempre molta commissione in queste rivoluzionare tra corpo e spirito, pensiero e azione. Grace Jones per dire, Grace scrivete, tu e Chiara, vuole diventare come appare perché vuole apparire come è. Quindi il corpo usato apparentemente anche in maniera strumentale. Grace Jones è stata accusata di avere fatto una foto su una copertina scazzata da suo marito dietro una gabbia come donna pantera, ma voi riuscite a ribaltare e a riguardare anche un gesto come questo come rivoluzionario. Sì, perché per le donne per un sacco di tempo il corpo è stato uno spazio di negazione, così come il desiderio, le due cose sono collegate. Nel senso che il tuo corpo è fatto per piacere a qualcun altro, quindi dagli la forma che è gradita a chi ti sta intorno. Chiaramente il corpo non è una cosa staccata da quello che sei. Se tu dai al corpo la forma che gli altri gradiscono, a prescindere dalla sua e da quella che tu vorresti, in qualche modo stai accettando anche di modificare te stessa, quello che sei nel tuo intimo, dentro questa trasformazione verso il compiacimento altrui. Queste donne si riprendono il corpo e riprendendosi il corpo si riprendono anche la loro identità primaria. Dicono il corpo deve esprimere quello che a me di me stessa piace, anche se intorno dispiace e qualcuno mi dirà non sei carina, non sei dentro gli standard. Quali standard? Chi li ha decisi gli standard? Vai così. Allora, Carmen Cosumano faccio sì con la testa da quando ha aperto bocca. Guarda un po' l'unico maschio fin qui che ha scritto, Sergio Ferraiolo pensavo che queste cose fossero scontate, evidentemente mi sbaglio. Non lo sono, Sergio, non sono scontate. Per te sì e questo ti fa onore, ma potresti chiedere alle donne della tua vita, quelle che conosci, quante discriminazioni pensano di subire ancora quotidianamente, scopriresti delle cose che ti mostrano che il tempo pur essendo cambiato, per molti versi può facilmente tornare indietro. Questo ce l'ha insegnato Margaret Atwood nel racconto dell'ancella, ma l'abbiamo visto succedere nella storia. L'Egitto e l'Iran erano nazioni dove la donna era quasi all'appare con gli uomini, ormai poteva vestire come voleva. È bastata una rivoluzione, pochi anni, violenza e una idea molto patriarcale di società per cancellare completamente i diritti acquisiti. Nessuno è al sicuro, esistono solo i diritti che possiamo difendere. Prenditi questa, Sergio. Senti, una domanda alla Morgana Murgia. Nel capitolo dedicato alle sorelle Bronte, scrivi, ci sono gli scrittori che vivono per raccontare la vita e quelli che devono raccontarla per viverla. Così, a Bursia Pelo, tu tra quali ti inserisci? Sicuramente nel primo caso, nel senso che io se mi dovessi definire, io non credo che utilizzerei la parola scrittrice, utilizzerei la parola politica probabilmente, perché per me l'urgenza è sempre quella di intervenire sulla contemporaneità per cercare di portarla più vicino a quello che io immagino debba essere o quella in cui vorrei vivere, vorrei che i miei figli vivessero. Ma questo significa che io uso la scrittura come mezzo estremo. È uno strumento. Io provo a fare tutto il resto prima, se non posso cambiare le cose col resto, allora le racconto. È l'estremo atto di resistenza il raccontare. E siamo comunque sulla morgia morgana, perché parlando di Moira Orfei, mi piace, ma tutte le osservazioni sul circo che ti piace un sacco sono proprio solo tu e anche tu hai questa passione insana per il circo. Allora, sia io che Chiara abbiamo amato molto Moira più che il circo, perché il circo ci risveglia delle cose ambivalenti. Tutti ci siamo stati da bambini e tutti ci hanno portato convinti che ci avrebbe divertito. In realtà quello che accade è che dentro al circo ci sono molte maschere e dietro quelle maschere si intravede comunque a volte un soghigno, a volte una sofferenza che va coperta per mettere in scena la risata. Il clown è una delle figure più tragiche da sempre, poi tornerà il clown nel nostro discorso, visto che tu… È un tremendo, è un tremendo. Però aspetta, tu di Moira, se io volevo parli degli animali, parli della sua carriera cinematografica, che forse non tutti hanno inquadrato, ha fatto più di 40 film, ma tu l'ho amata tantissimo. Ci sono un sacco di curiosità in questo libro proprio da spulciare da Google. È politico, però è anche un libro, posso dire, leggero, tra virgolette, nel senso buono della parola, pieno di curiosità, pieno di vita, pieno di storie. Sono storie. Uno pensa, ci sono i caratteri delle donne che ci devono fare, ad esempio… Sono storie di vita molto interessanti. Piene di… C'è questo amore fantastico di Moira con il suo domatore, era un domatore anche lui. Sì, era un domatore, sì. Moira, tu dici, non è mai stata la metà di nessuno. Ecco, c'è anche questo elemento nelle Morgane, ma nemmeno Caterina Rassien era la metà di nessuno, cioè era lei, capito, che parlava per Gesù. C'è questo amore, questa ammirazione troppo per le donne che riescono a non essere la metà di nessuno. Sì, nel caso di Caterina è evidente perché Caterina ha scelto, preteso di essere suora contro una famiglia che la voleva moglie di, addirittura con un marito che non avrebbe nemmeno scelto perché sarebbe stato il vedovo di una sua sorella già morta. Quindi sarebbe stata la sorella sostitutiva, la moglie di rincalzo, diciamo. Nel caso di Moira, l'amore di Moira per suo marito è stato molto tormentato perché lui le metteva un sacco di corna. Lei che puteva non lo faceva. Non lo faceva, ma questa cosa non la metteva in una condizione di sudditanza. Intanto il circo era lei, la sua faccia era il circo di Moira Orfei e quindi era una figura dominante nella rappresentazione pubblica. Nelle coppie, diciamo, tradizionali maschiliste avviene il contrario. C'è la grande donna dietro il grande uomo, sempre dietro, la parola chiave dietro, mai grande. Nel caso di Moira invece c'è un piccolo uomo dietro una grande donna. Di lui non ricordiamo neanche il nome, io non lo voglio pronunciare, nel libro lo abbiamo scritto. Nemmeno io. Però il nome di Moira, il rapporto di Moira con quell'uomo somigliava per molti versi al rapporto che nel circo si ha con gli animali e che tutti abbiamo con gli animali in realtà. Noi abbiamo tre modi per categorizzare le bestie. Abbiamo gli animali d'affezione che sono quelli che accarezziamo, che dormono con noi nei letti, che sono i cani, i gatti, i conigli, qualcuno ha anche animali d'affezione di questo tipo. Non li mangiamo, li coccoliamo, non sono liberi ma allo stesso tempo ottengono molto da questo rapporto. Qualcosa che noi pensiamo che a loro serva, ma non è detto che sia così. Ma non importa, tanto non gliel'abbiamo mai chiesto. Poi ci sono gli animali domestici, che sono quelli che vengono allevati nell'aia, che vengono trattati bene, li nutriamo noi, non si devono però cacciare il cibo, ma poi li mangiamo. E quindi fanno una brutta fine, diciamo. E infine ci sono gli animali selvatici, quelli che non siamo riusciti a domesticare, che si procacciano il cibo da soli e quindi sono indipendenti, non hanno bisogno di noi. Ecco, verso quegli animali tutto è consentito, anche la caccia, anche l'uccisione. Sono animali senza nome per noi. Nei rapporti umani, spesso nei secoli, nel patercato, gli uomini si sono comportati con le donne allo stesso modo. Cioè, se tu accetti che mi prenda cura di te, che ti coccoli, che ti tratti come una cosa mia, che ti dormi con me, ti vesto, ti do tutto, allora avrai il mio amore. Se ti sposti, man mano che cresce la tua autonomia da me, diminuisce anche la mia tensione alla cura e aumenta invece la mia propensione alla violenza e all'abuso. Moi la conosce quel modo di gestire il potere ed è molto brava, come dire, a usarlo con gli animali e molto brava a fare in modo che non sia usato su di lei. Tu non sei mai stata la metà di nessuno e sei anche stata sposata. L'hai raccontato al Maxi di Roma, dove avete presentato Morgana e avete parlato di Zadid, che è una delle di Morgane che raccontate. Mi ha colpito, come hai raccontato, di un matrimonio di cui non avevo mai sentito parlare, un matrimonio felice, che finisce ma non fallisce, rispetto al quale tu non ti sei mai sentita la metà di nessuno, forse lui voleva essere la metà di te, questo non lo so. Ma ricordi che tutte le mattine ti metti la fede per ricordarti quanto ti va stretto. Perché Michela Murgia, tante proposte ha ricevuto, non può accettare di essere la metà di qualcuno? Nessuno è la metà di qualcun altro, è un'immagine di noi stessi a pezzi che dovrebbe stare stretta a tutti. Quando si dice la mia metà, in realtà ci si definisce amputati, io non penso che questo sia il linguaggio giusto per parlare né di se stessi né di una relazione amorosa. L'amore è un processo moltiplicativo, non è una sommatoria. Quando ho raccontato di quel matrimonio l'ho raccontato come appunto l'attraversamento di una fase in cui esci maggiormente consapevole e ho parlato di un matrimonio finito e non fallito, perché le due cose sono profondamente diverse. Cioè ci sono delle esperienze che nella vita hanno un tempo e quel tempo va riconosciuto quando arriva. Se lo riconosci la fine è anche, come dire, amorosa come l'inizio. Non ti opponi alla morte di qualcosa, alla trasformazione di qualcosa. I matrimoni falliti spesso stanno ancora in piedi. Io sono circondata di persone che hanno matrimoni falliti e non... Ma non lo sanno! A volte lo sanno! Non sanno anche! Il problema è convivere con una cosa fallita e non prendere atto appunto del fatto che forse considerarla finita sarebbe... ti farebbe uscire dalla logica del fallimento. Un altro matrimonio impossibile o è proprio il matrimonio in sé che tu pensi ormai impossibile? Non ci prendo. Il matrimonio non lo pensi se non hai qualcuno con cui pensarlo. Devo dire che mi sento... non è una... non è un modello che può andare bene per il tipo di donna che sono io. Accetto patti, non accetto, come dire, ruoli. La relazione e la funzione possono andare d'accordo, ma è molto raro che lo facciano. Se devo scegliere, preferisco alla funzione e senza dubbio la relazione. Ci sarà pure un uomo che accetta una Morgana? Ah, ma certo che c'è! Ma è l'uomo che non mi chiede di sposare! A proposito di Morgana, ci scrive Morgana Scurti. Mi sono collegata adesso. Perché Morgana? In effetti non l'abbiamo spiegato, ragazzi, visto che ne porto il nome. Ah, che fortuna! Grazie, Morgana! Che fortuna sfacciata! Tra l'altro abbiamo avuto un bellissimo regalo quando questo libro è uscito e tutto il progetto del podcast che lo ha preceduto, perché ricordo che Morgana comincia con un podcast sulla piattaforma storielibere.fm, una scommessa di Rossana De Michele, un'altra donna che accetta di fare con noi questo percorso attraverso una formula poco frequentata in quel momento in Italia, poi in realtà adesso tutti ascoltano i podcast. In un anno Morgana ha avuto 700 mila scaricamenti di persone che hanno sentito le nostre storie prima a voce e oggi anche su carta. Ma Morgana perché è una figura che appartiene al ciclo arturiano, quindi al nostro immaginario occidentale come fondativa, ma è ambivalente. Infatti ci sono… c'è chi dice fata Morgana, c'è chi dice strega Morgana, c'è chi dice Morgana e basta. È interessante perché fata o strega cambia a seconda del modo in cui viene raccontata a Morgana in relazione al potere di suo fratello Artù. Fino a quando la sua magia è a servizio del re, Morgana è una fata. Quando è a servizio suo, Morgana è una strega. Quindi tra quelle due parole passa tutta la libertà delle donne. Ma Bennato aveva capito tutto, scusate. La fata. Non era… era Piero Pelù. Ma c'era anche una di Bennato, ce n'è due allora su questo concetto ambivalente. Sì, bene, era… io mi ricordo Senza figli, Burattino Senza figli, avrà avuto otto anni, la fattavo sempre. È la fata turchina però. Era la fata turchina. Sì. È una crasi interessante. Va bene. Adesso però torniamo a Michela Murgia. Io ti volevo ancora chiedere… intanto alle… è bellissima, le presentazioni dei libri, poi passiamo al suo libro della vita. Fate portare una cosa meravigliosa, lo volevo far portare anche io. Un mess, come si chiama? Un quello di rame. Un calderone. Il calderone. Un paiolo anche abbiamo. È fatto una specie… quindi andate, incappate nelle sue presentazioni, oltre che perché è lei, perché c'è Chiara che è forte, perché il libro è… andate anche per lo spettacolo in sé e anche per la seduta di, come possiamo dire, quella di gruppo, la psicologia di gruppo. Dite gli ingredienti che ci avete messo, no? Sì. Ognuno della vostra vita, per fare delle riflessioni. Ma allora così, io se ti chiedessi, quali sono gli ingredienti per essere un po' morgane o tirare fuori la morgana che è in voi? Che cosa possiamo dire alle lettrici, ai lettori? Magari ci sono dei morgani Apple. Certo, senz'altro ce ne saranno. Noi ne abbiamo scelti tre, facciamo un po' questo gioco teatrale che è appunto quello di mettere tre ingredienti che secondo noi costituiscono il DNA della perfetta morgana. Il primo è l'atto eversivo, cioè a un certo punto tutti ci troviamo davanti in una regola che non vogliamo rispettare e dobbiamo scegliere se sottomettercisi oppure se pagare lo scotto di infrangerla, perché è un prezzo, si paga, si paga sempre. Quindi abbiamo chiesto anche ai lettori e alle lettrici in questi giorni di aderire a un challenge, come si dice sui social, su Instagram e su Facebook, che si chiama Morgana sono io. Cioè raccontare la prima volta, il primo ricordo in cui davanti a una regola l'abbiamo infranta, perché da lì, da quel piccolo gesto Morganico nascono una serie di libertà, di possibilità, di infrazione ulteriore che sono come le sliding doors, cioè una si apre, una si chiude, ogni volta che tu infrangi una nuova regola si aprono per te nuove possibilità di scelta che altrimenti non avresti visto mai. Quindi l'eversione. La seconda sicuramente è il riferimento, la madrina, la figura che ti ha ispirato e arriva da direzioni tutte diverse. Nel mio caso appunto Marina e Caterina, nel caso di Chiara, le sorelle Bronti e Tonya Harding, la pattinatrice che probabilmente commissionò la gambizzazione della sua rivale, quindi niente affatto una brava ragazza. E il terzo elemento è appunto il fallimento. Il fatto, l'assumerselo il fallimento, cioè sapere che se infrangi quella regola, intorno a te il tuo contesto ti dirà ecco non sei quello che ci aspettavamo e quindi dovrai fare i conti con un giudizio che spesso può schiacciarti, ma se non ti schiaccia ti fa venire su molto più rigogliosa, con fioritura ampia. La lezione è questa, imparate, meditate. Io ascoltando ti ho pensato che ero pochissimo Morgana, ma perché non ero Morgana? Dov'è che non avevo, dove non mi ero rivelata? Perché non mi ero? Quindi si aprono porte, sliding doors infinite anche per quelli che non trovano Morgane ma vorrebbero esserlo. Allora, Morgana ti ringrazia, dice che il suo nome scopre che è associato anche al mare, viene dal mare, anche il mare forza e libertà, nella parola c'è anche amor. Avanti abbiamo bisogno di donne così e avanti tutta belle, ferro fertuliatum ferre. Hai capito? Sulla questione Fata Morgana, Margaret Atwood mi ha detto una cosa che io non sapevo, mi ha detto che Fata Morgana è un nome che si usa anche nelle lingue straniere, nell'inglese senz'altro, per indicare un fenomeno di miraggio che si verifica soprattutto per mare, nello stretto di Messina ma anche in altri posti, anche nel deserto e lei lo conosceva e quando abbiamo parlato appunto di Morgana lei mi ha detto Fata Morgana, like the mirage, come proprio il miraggio. Mi sono andata a guardare e effettivamente mi piaceva moltissimo quest'idea che sia una terra apparente, una specie di Avalon che appare scompare e la raggiunge soltanto chi ci crede. Questo è bellissimo, in realtà fa perdere i marinai, perché sei convinto che lì ci sia la terra e invece poi ci arrivi e la terra non c'è, però era molto divertente questo particolare che lei conoscesse di Morgana, in italiano conoscesse questo dato dello stretto di Messina. incontro tra voi. Mi ha colpito Vivienne nel dubbio meglio esagerare, questa visione meravigliosa da Morganissima. Siamo state mortificate per anni da questa storia che è Less is more, che Coco Chanel ci ha veramente soffocate perché dice quando stai per uscire di casa guardati allo specchio e togli un accessorio. Vivienne Westwood dice proprio il contrario, dice nel dubbio aggiungilo l'accessorio. Qualcosa che dica di te più di quello che tu stessa vorresti dire, raccontati di più, proprio perché per molto tempo non ti sei potuta raccontare e gli altri hanno deciso che storia dovevi avere tu. Va bene, non abbiamo citato Zadid ma il nostro tempo è finito, Zad è un programma e mi piace da matti perché è severissima e tu l'accusa di essere un architetto di carta per anni. Abbiamo discusso su questa Morgana perché tra me e Chiara Tagliaferri ogni Morgana è stata negoziata, alcune piacevano a me, alcune piacevano a lei, alcune piacevano a entrambe. Zad è una di quelle di cui io ho dovuto far innamorare Chiara, mentre le sorelle Bronte e Tony Harding sono state invece la mia resistenza e lei alla fine mi ha convinto ad amarle, non so se quanto lei, anzi non credo quanto lei, ma certamente capirle meglio. Detto questo, siamo a About Your Book. Allora adesso farò un esperimento, è la prima volta che ci proviamo, cancellerò questa lavagna, vediamo se ce la facciamo e tu ci dovrai illustrare, intanto parti, il tuo libro, Your Book, perché l'hai scelto e se hai una citazione non è voglia, se hai una citazione da regalarci. Vai a furor di telecamera che io provo a cancellare il muro. Devo scriverlo e poi dirlo, o dirlo mentre lo scrivo, o dirlo prima e poi scriverlo. Non lo so, è tutta una cosa live che ci siamo inventati adesso. È tutta una cosa live. Allora, lo dico mentre lo scrivo, tanto... è una cosa difficile, vieni qua, aspetta che ti tolgo tutti i miei aggeggi, vieni qua. Immagino e suppongo che si tratti del libro caro a molti, quindi... Si cancela. Colpo di scena, vi aspettavate, non so, Cime Tempestose. Quello è di Chiara. Eccola là. Eccola qua. It di Stephen King. È il mio libro del cuore, è quello che più mi ha formata, quello che più ho riletto nella vita, è quello che mi ha spiegato che uno scrittore maschio può raccontare le donne come persone vere, che può parlare della loro forza, della loro debolezza, della violenza che subiscono senza fare prediche e che è possibile scrivere romanzi senza un eroe, ma raccontando invece un gruppo dove essere potenti insieme, perché ciascuno da solo è troppo fragile, è troppo emarginato, troppo nerd, troppo sfigato per farcela anche per un solo giorno e soprattutto che il tempo magico dell'adolescenza è un tempo in cui non sei perso. Puoi anche essere perso, ma dentro quella tua perdita c'è un elemento di salvezza per gli adulti che invece si credono salvi. È il libro che io consiglierei a chiunque di leggere anche in età molto precoce, nonostante sia un libro spaventoso, perché contiene appunto quel terrificante clown che era Pennywise, che ci faceva paura al circo, ma dentro quel libro ci ha fatto paura esponenziale. Per me Stephen King è lo scrittore della vita in tutti i suoi romanzi o in quasi tutti, certamente in quelli della prima parte della carriera. E It è un libro che io rileggo ogni anno perché in ogni fase della mia vita ha avuto dentro qualcosa in più da dirmi. Non è un grande sperimentatore linguistico Stephen King, non è uno di quelli che tu dici ha riformato la lingua inglese, non è così, però sicuramente ha riformato l'idea di romanzo. Per esempio ha introdotto lui una visione cinematografica nel racconto. Nella sua pagina tu puoi cambiare punto di vista sei, sette volte senza che nessuno ti avvisi, come se avessi mille voci nella testa, come se fossi Dio, come se sentissi davvero tutti i venti da ogni direzione venire verso di te. L'ho posseduto in almeno 20 copie diverse perché le ho consumate e purtroppo nell'ultimo trasloco non ne ho nemmeno una con me di copia e quindi ho scaricato una versione online sul telefonino per potervi fare una citazione di questo. Prego. Allora devi raggiungere il microfono perché non ho niente qui attaccato. Con onore e orgoglio. Allora. Ti vuoi che ti regga anche il telefonino? Ti faccio dare giù. Eccoli qua. Forse è per questo che Dio ci fa piccoli e vicini al suolo. Aspetta eh. Forse perché sa che dovremmo cadere spesso e sanguinare molto prima di imparare quell'unica semplice lezione. Si paga per quel che si ottiene. Si ottiene ciò per cui si paga. Ma prima o poi quel che ti appartiene torna a te. Questa frase mi ha salvato la vita almeno sette volte. Non sono un gatto ma questo libro mi ci ha fatto diventare. Ma Michela grazie perché ci apri nuovi orizzonti. Anche Stephen King sarebbe fierissimo se avessi sentito tutto questo. Adesso rimandiamo il video con tutto il sottotitolo. About your book. Ha appena compiuto 72 anni e gli vogliamo bene come come dire se fossero 720 cioè proprio strutturale quest'uomo nella vita. Noi vogliamo benissimo a te grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi. Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Si può leggere, rileggere, ci si può collegare a storie libere, si possono ascoltare, riascoltare le vecchie storie, ascoltare le nuove perché altre ne verranno. Erano 16 ne avete scelte 10 con lunghe difficili discussioni con la ragazza dell'Ottocento che è la Tagliaferri. Rileggetevi o leggetevi anche It. Io dovrò cominciare perché alla fine questo Stephen King dopo quello che ha detto la Murgia. Non l'hai mai letto. Io sono un fiodecime tempestose. Che fortuna sfacciata che hai. Che vergogna. Cioè tu puoi leggere It per la prima volta. Però ho confessato davanti a tutti. Non l'avrebbero detto. No hai ragione, non l'avrebbero detto. C'è stato un tempo invece in cui gli scrittori si sarebbero vergognati di ammetterlo. Finalmente l'abbiamo sganato. Sono coraggiosissime, siamo due Morgane e sono Morgana anch'io. Ciao, grazie, a presto. Ciao.